Eri Fusi A-S-M-R Salve a tutti Oggi faremo un ASMR un po' diverso Faremo un super roleplay Dentista Quindi ragazzi mettetevi comodi E preparatevi Ok Ecco qua il primo cliente della giornata Salve buongiorno signore Signore Rossi Eccoci qua Vediamo cosa deve fare lei oggi Allora Data di nascita Ok 10-12-1969 Ok Bene Otturazione No signore La prego Stia tranquillo Abbiamo dei bravi medici qua Che le faranno una buona anestesia Quindi non sentirà niente Quindi Stia rilassato Si rilassi Si metta un attimo in sala d'attesa Che la finisco di registrarla Ecco qua Bene la passo al mio collega dentista Prego Salve già Buongiorno signore Prego Si accomodi Sulla poltroncina La faccia di lassare E intanto io Preparo Gli oggetti Per l'otturazione Lei deve stare tranquilla Adesso noi Andiamo Io vado a mettermi la mascherina E le farò L'otturazione Ok Allora Andiamo a mettere la mascherina Così Andiamo a mettere i guantini Così Ecco qua Si deve rilassare Signore La prego Non sentirà nulla di male Adesso le andiamo a fare un po' di anestesia Ok Sentirà solo Un piccolo punzecchiare Ma non si deve preoccupare Ok Bene Siamo pronti È rilassato Vado a prendere l'anestesia Ok Lei non si deve preoccupare Allora andiamo a prendere un po' di anestesia Ecco qua Bene Adesso deve stare rilassato Allora aspetta che controllo Un attimo Controllo il dente Che deve Otturare Ok Dallo schermo Numero 32 Ok Prego Andiamo a procedere Bene Si rilassi Signore Sti tranquillo Che adesso le applico l'anestesia Ok Ecco qua Perfetto Molto bravo signore Vedo che è molto bravo Si deve solo rilassare Allora Adesso Andiamo Aspettiamo un attimo Che l'anestesia Faccia effetto E poi cominciamo con l'atturazione Lei deve stare rilassato Tranquillo Che adesso io sto Andiamo a preparare Prepariamo Tutti gli accessori Ok Allora Mi faccia un attimo Controllare Qua Aspetti un attimo Avivo subito Allora Ok Perfetto Mi faccia controllare Un attimo Qua Allora Proviamo un attimo La bocca Così 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 Ok Possiamo partire Lei deve stare Rilassata Sente Un po' di formicolio La bocca Ok Perfetto Allora Cominciamo Lei deve stare Molto rilassato Li vado A mettere Un po' d'aria Ok Adesso Andiamo a cominciare Ok Bene Benissimo Signore Se sente male Mi alza La mano destra Ok La mano sinistra Scusi La mano sinistra Mi alza La mano sinistra Se sente male Ok Continuiamo Scusi ma bravissimo signore, abbiamo quasi finito ok, adesso andiamo a mettere la pasta sul dente, prendiamo anche questo ok, fermo lo fermo così ok, adesso andiamo a polimerizzare ne mettiamo un altro po' ecco qua andiamo a polimerizzare adesso puoi sciacquare la bocca con un po' di acqua ecco qua sarà il 21 luglio, quindi adesso voto alla mia segretaria e va a prenotare e a fare il pagamento tutto bene signore? come è andata? non ha sentito niente, è vero? lo sapevo, come immaginavo, bene ho durazione, sono 150 euro signore, pagate con la carta o col banco ma... con la carta, perfetto, grazie grazie ecco qua, la prenoto per la prossima visita, allora il 21 luglio abbiamo detto che orario le va bene? mattina pomeriggio, mattina presto, mattina presto, 8 e mezza, 9, ok facciamo le 9, perfetto bene grazie, arrivederci, grazie, buona giornata signore e buon lavoro, ciao ciao